Buonasera Presidente, purtroppo neanche questa domenica fa sorridere in Casa Bianca Azzurra. Sì, purtroppo manca il risultato positivo da un po' di tempo, non riusciamo più ad essere concreti come lo siamo stati all'inizio di stagione, sicuramente qualcosa da rivedere c'è, non ultimo il clima è veramente surreale che si vive allo Stato Adriatico, perché è veramente una cosa vergognosa. Di questo ne parliamo tra un po', volevo fare subito la domanda che sicuramente si aspetta se continua la fiducia ad Auteri. Ma sicuramente, perché io da oggi, dopo vi dirò quello che penso, io da oggi non muoverò più niente del Pescara, visto che devo andare via, io vado via, sono a disposizione per andare via, però qualcuno ci deve mettere poi le firme, la faccia e deve continuare a fare il Presidente del Pescara. Per me va bene così il Pescara. Quindi non tocca Auteri e non ci saranno operazioni di mercato? Se devo andare via non è che posso fare io le operazioni di mercato, io ho tutti quelli che contestano, che sono legittimati a contestare, adesso devono trovare la persona che viene a Pescara e decidono loro chi viene, garantiscono loro per quelli che verranno, perché chiaramente io non lascio il Pescara in mano a gente strana, le porteranno loro e quindi se domani dovesse succedere qualcosa qualcuno ci avrà un cognome responsabile. Quindi diciamo che la contestazione di massa che c'è stata non è andata giù Presidente questa volta, lei di solito risponde non mi interessa i tifosi. Ma a me non interessa la contestazione, ma uno che gioca in casa è una partita così importante, è una partita che comunque devi cercare di vincere, ma io credo che prima di tutto bisogna di fare il Pescara, dopodiché volete mandare all'altro paese di Sebastiani, fatelo pure, tanto lo state facendo da anni, quindi non è un problema, però la squadra va aiutata e così non si aiuta la squadra, anzi addirittura si crea un clima quasi che c'è, ognuno può fare quello che vuole in campo perché tanto sembra che giochiamo fuori casa. Dal punto di vista tecnico però un brutto Pescara. 40 secondi, Chiarella ha giocata, poi sugli sviluppi del corner Veroli ha avuto la palla del vantaggio, dall'in poi nulla. Sì, non è manco facile giocare con una squadra che era 11 persone dentro la propria metà campo, quindi abbiamo visto, credo che dall'altra parte non ci sia stato nemmeno un tiro in porta, quindi non è facile perché chi viene a giocare a Pescara gioca così e quindi è naturale che diventa difficile giocare, poi in un momento come questo è chiaro che non ti riesce nulla e quindi è ancora peggio. A vedere i ragazzi credo che la palla a questo punto scotti, perché prima giocavamo palla avanti, adesso nessuno si prende la responsabilità magari di fare un passaggio un po' più importante, quindi è il momento, è questo, passerà anche questo momento. Chiedo un'ultima cosa, prima di darle l'auricolare per le domande da studio di Massimo Profeta e Fabio Ferraresi, se magari le passerà questo momento di arrabbiatura per la contestazione può cambiare qualcosa, cioè se Auteri rischia davvero meno. Ma io non sono arrabbiato, caro Enrico, io non sono arrabbiato perché l'ho sempre detto, a me interessa poco la contestazione, io ho la coscienza apposta, so quello che ho fatto e quello che sto facendo per il Pescara. Il problema è un altro, quello che non capiscono queste persone, che se c'è qualcuno, se ci fosse qualcuno minimamente interessato a comprare il Pescara o anche a regalarglielo il Pescara, che ha un minimo di giudizio, a vedere queste scene qui chiaramente non ci verranno mai a Pescara. Forse da un lato si dice Sebastiani Vattri e dall'altro lato diventa impossibile trovare uno che viene. Poi ripeto, io oggi lo dico ufficialmente, se queste persone che contestano si mettono in prima linea e portano una persona seria che prende il Pescara, io le mie quote sono a disposizione da questa sera, non devo parlare di nulla. Consentirò a tutto quello che mi diranno, l'importante è che chiaramente le mie firme vengano sostituite da qualcun altro che vale come me. Auricolare al Presidente Sebastiani per le domande da studio. Massimo. Allora, Fabio. Io saluto Daniele, innanzitutto gli dico che l'amarezza del momento la capisco perché non è semplice per una proprietà che comunque da anni ci mette la faccia sopportare questo momento, però io credo che lui debba andare avanti per la sua strada, magari l'unica cosa che posso consigliargli, se posso, di avere un confronto con qualche esponente della tifoseria per cercare di trovare una soluzione, magari una tregua per cercare di dare una mano anche ai ragazzi, perché sicuramente io ho giocato e giocare una partita con questo clima diventa complicato e quindi tutte le cose che ha detto sono giuste, io le condivido, però bisogna trovare un punto di incontro se non c'è una proprietà che vuole subentrare. L'unico consiglio che mi sento di dare a Daniele è quello di provare a parlare con qualche esponente della tifoseria. Fabio, vedi, io credo che nella mia vita non ho mai fatto la rotta di scorta a nessuno, non credo che lo farò per il Pescara. Mi dicono vai via, io vado via, non è un problema, però qualcuno si deve prendere la responsabilità a chi dare la società, perché se vado via e poi magari non si pagano gli stipendi, poi magari si prendono le penalizzazioni, poi magari succede qualche altra cosa, io non mi prendo la responsabilità nei confronti della città di lasciare i danni, perché Sebastiani i danni non li ha mai fatti e non li lascerà sicuramente col Pescara. Però, visto che c'è questo numero così elevato di persone che vogliono Sebastiani via, a questo punto trovassero loro un sostituto, io sono a disposizione. L'importante, l'ho sempre detto, che io non debba rimanere legato a qualcuno che vuole fare il calcio magari con le firme mie, questo è fuori discussione. Massimo. Va bene, è così. Enrico. Perfetto, io chiedo l'ultima cosa al Presidente Sebastiani, se vuole commentare quello che è successo dopo il triplice fischio. Ma è incommentabile, purtroppo il nervosismo porta anche a queste cose, Ferrari ha preso una ginocchiata se non vado errato, e poi dopo è chiaro che con il nervosismo che c'è scatta, magari qualcuno ha esagerato, non sono sicuramente cose da fare, quindi sicuramente le condanno, però purtroppo succede pure questo. L'ultima proprio, io torno sempre sulla domanda tecnica perché... Non me la fare nemmeno, perché il mister è auteri e rimane auteri, fin dando che sarò io Presidente rimane auteri. Non volevo dire di auteri, volevo dire se vede una possibilità per tornare almeno a essere brillanti come all'inizio. Ma io mi auguro che possiamo tornare a essere brillanti, perché alla squadra non manca nulla per essere brillanti. Sicuramente in questo momento c'è un mix tra paura e la palla scotta, un po' di più sicuramente. Però sono giocatori professionisti, vengono pagati per quello, quindi devono fare professionisti.